Una bella Vectron BLS, fantastica, dunque che vento ragazzi, sabato, e non è velocissimo perché c'è il regionale davanti, per la partita 10 minuti fa circa, bella questa macchina BLS, una bella, fantastica, peccato che non ero dalla parte opposta, grazie a televisione, questo è il binario, tutte le stazioni, grazie della visione signori e buona domenica a tutti.